buonasera e ben ritrovati al gioco del mondo dopo aver fatto televisione radio cinema teatro e tante altre cose che continua comunque in un modo nell'altro a fare la nostra ospite che noi consideriamo luganese a tutti gli effetti è in Africa che ha trovato nuovi orizzonti e nuove prospettive di vita noi in Africa ci andremo con il dado che oggi consegniamo nelle mani di Benedetta Mazzini buonasera buonasera ciao Benedetta grazie mille mi fa molto piacere essere qui con voi è un privilegio averti in televisione perché devo dire che non ti si vede spesso in televisione ne hai fatta tanta ma poi a un certo punto che è successo come hai detto tu mi sono dedicata ad l'altro però quando le occasioni sono quelle giuste ci torno molto volentieri e infatti non potevo perdere questa chance di essere qui sei gentilissima il mal d'Africa c'è ti manca più l'Africa quando sei in in Svizzera o ti manca più la Svizzera quando sei in Africa il mal d'Africa esiste senz'altro ma io ho il mal del Ticino devo dirti la verità che secondo me più più viaggio più mi rendo conto che casa nostra è il posto più bello del mondo perfetto allora è un bel posto anche questa poltrona al gioco del mondo che cosa scegli Benedetta fra l'eremita il matto l'imperatore la fortuna la ruota della fortuna l'amore oppure abbiamo anche una morte un po' giocosa suona il violino non è da esorcizza la morte questo l'amore scegli l'amore è andata dritta perché questa scelta perché l'amore vincerà sempre su tutto è vero sembra è una frase fatta è una frase da cioccolatini ma io spero sempre che sia così ad amare tu sei vai forte una cosa che ti riesce bene l'amore è passione la passione io sono estremamente passionale e metto amore e passione in tutto quello che faccio e vorrei che tutti lo facessero vorrei che tutti trovassero qualche cosa da amare e di cui essere appassionati perché perché la vita diventa più bella vabbè direi proprio di sì partiamo Benedetta con la pedina dell'amore sulla partenza il dado è da trarre vediamo dove ci porta 3 facciamo 3 e andiamo a scuola torniamo allora facevi anche la scuola anche con passione o no diciamo che c'erano delle materie che facevo più con passione e non è tanto la materia perché sempre lì devi sempre avere un bravo insegnante in tutto e diciamo che gli anni di scuola non sono uno i miei ricordi preferiti al mondo davvero no perché perché mi senti ero ero piccolina ma già capivo che mi piaceva che mi sarebbe piaciuto mi ricordo quando ero piccola guardavo i giornali sai che c'erano tipo ne so dei tramonti delle foto e vedevo questi posti vedevo una palma mi immaginavo dei posti lontani sono sempre stata avevo sempre voglia di andare quindi la scuola era era ero confinata erico la classica ragazzina che non ascolta il professore ma guarda in modo distratto fuori dalla finestra per altri orizzonti bisogna ascoltarli per forza ma perché sei un po ribelle per quello non ti andava alla scuola che è un luogo un po della costrizione quando non è una buona scuola io ho dei ricordi anche meravigliosi mi ricordo anche tutti i miei professori poi andava a scuola in via le cattaneo a lugano alle quando c'erano ancora le medie lì ed era una scuola lì era stupendo cioè scuola dentro il parco ciani praticamente quindi comunque ho dei bei ricordi era il fatto di fare la stessa cosa tutti i giorni e di stare in un posto quando invece comincia ad avere 12 13 14 15 anni e vuoi scoprire di posti che in realtà stai studiando la cosa che amavo di più era sicuramente italiano e l'epica e quindi anche lì di nuovo leggere di cose che magari ti portavano in altri posti in altri paesi in altre situazioni le grandi avventure e poi tu hai inseguito infatti poi nella vita ci sei arrivata a fare queste viaggi epici possiamo descriverli così i viaggi in africa i viaggi allora sicuramente spartani perché poi manderemo qualche immagine dell'africa ti vediamo in condizioni non proprio facili devo dire quando li faccio io quando vado io a sperimentare le cose o a scoprire delle cose prima di offrirle ai miei clienti o le persone che comunque viaggiano con me sì devo essere sincera sono spartani però il lusso che è una parola che non amo tantissimo non è più tanto avere la bottiglia di champagne che però quella se si vuole sia sempre ma è andare in posti dove è difficile andare dove c'è poca gente quello oggi è considerato il lusso nei viaggi quindi andare in posti almeno per chi ama questo tipo di cose io degli amici che non vorranno mai a fare un viaggio con me perché preferiscono stare nelle grandi metropoli che sono eccitanti tanto quanto io invece diciamo moltissimo i posti remoti e la natura perché anche gli spazi questi orizzonti aperti però poi fra il monte bret e san salvatore ci torna sempre sempre monte bret poi in particolar modo è una delle cose a cui sono più affezionata davvero un po se mi vado spessissimo noi abbiamo un che meraviglia questa è un'interpretazione sui colori ocra che forse sono quelli del deserto che mi chiamano a questo punto un video ma questa qui è una foto e lei è una signora ed è una matriarca di una tribù imba in namibia che vado a trovare spesso ogni paio d'anni vado a trovarla e la prima volta che l'ho conosciuta sarà stato fai conto 15 anni fa ed è sempre un piacere non parlo la loro lingua lei non parla la mia ma troviamo sempre la maniera di ma ci si intende anche senza parole parole tu le usi nei tuoi video perché tendi sempre a documentare questi viaggi spartani o epici che siano vediamo qualcosa poi ci racconti tu oggi mi trovo in un villaggio imba tutte queste ragazze che sono con me e questi bambini che sono con me sono della tribù imba sono in namibia nella regione del cunene la regione del cunene è esattamente al bordo con l'angola la tribù imba deriva dalla popolazione bantu sono arrivati dall'angola e si sono stabiliti nel deserto del namib che è esattamente dove siamo oggi vivono in condizioni molto difficili ma nonostante tutto continuano ad avere le loro proprie tradizioni e sono molto gelosi delle loro tradizioni vivono in posti dove raggiungere l'acqua è veramente molto difficile e sono molto felice di essere qua ancora una volta a raccontarvi delle popolazioni che mi stanno più a cuore e che non devono scomparire che bello grazie è un video bellissimo perché esisti la necessità di raccontare questi viaggi perché questi viaggi che io organizzo perché come ci siamo raccontati prima di andare in onda io ho due compagnie che organizzano viaggi e organizziamo anche viaggi assolutamente normali però le cose da cui io sono più affezionata sono come ti dicevo i posti remoti io sono una grandissima appassionata di tradizioni e le tradizioni possono essere le tradizioni del malcantone le tradizioni dell'africa le tradizioni di san gennaro le tradizioni il passato a me piace tantissimo e sono cose che stiamo perdendo e stiamo perdendo in tutto il mondo e quindi cerco di nel mio piccolo di far capire alle persone che decidono di fare un tipo di viaggio come questo che hanno una fortuna incredibile perché probabilmente vedranno delle cose che fra poco non ci saranno più e quindi ci vuole una grande come dire attenzione perché si va a passare del tempo in questo caso parliamo delle tribù lo faccio anche con gli animali si va a passare del tempo quando si parla di esseri umani con persone che sono state magari poco a contatto con noi occidentali e quindi bisogna andare è uno scambio non bisogna andare a vedere una vetrina o a fare delle fotografie è molto importante e quindi cerco di sensibilizzare le persone a capire che si è veramente interessante però bisogna farlo con grandissimo rispetto contro la globalizzazione bisogna difendere questi valori lasciamo la casella della scuola benedetta ricordati poi di voltare la casella così ci ricordiamo dove siamo stati assolutamente la scuola abbiamo liquidato la scuola vado facciamo un bel 6 ecco siamo sulle ricchezze le ricchezze lì non ce ne sono molte di ricchezze beh invece sì ricchezze non la ricchezza se vogliamo parlare di ricchezze materiali materiali no però è proprio quello che stavo raccontando la ricchezza incredibile della conoscenza delle tradizioni dei popoli la ricchezza del 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 sapere ti ferisce ti ferisce il confronto fra la nostra civiltà la svizzera che comunque che che se ne dica siamo insomma benestanti e soprattutto se confrontiamo le nostre condizioni di vita con quelle di altri popoli magari col sud del mondo quelli che a volte forse impropriamente vengono detti anche sotto sviluppati l'economia ti ferisce comunque il confronto con queste realtà fatte sì di valori di ricchezza nei valori però comunque condizioni difficili al profilo economico guarda nei posti dove vado io e le cose che abbiamo visto nel mondo rurale che sia da noi che c'è piuttosto che in qualsiasi altro paese al mondo le persone stanno bene i contadini perché questi alla fine sono contadini stanno bene i problemi veri è la cosa che veramente ti ferisce quando vedi le grandi metropoli che hanno una periferia sconvolgente con delle situazioni sanitarie anzi non c'è proprio niente di sanitario non so come dire è quello è quello è terrificante ma quello non esiste soltanto in africa esiste dovunque da noi per fortuna no e la cosa che mi ferisce di più al mondo sono le ingiustizie che siano qua la mi ferisce vedere persone che devono scappare da casa loro perché non è più sicuro e perché non hanno una vita e magari arrivano da noi da noi parlo in occidente trovando magari qualcosa di peggio però questi sono discorsi molto più grandi di me però quello che mi ferisce moltissimo sono le ingiustizie questo sì bene mi ha capito le ricchezze per te che cosa sono andiamo con il dado facciamo un due sullo stadio una bella casella o no lo sport è lo stadio perché perché io sono una grandissima tifosa del hockey club lugano quando sono piccola ci vai regolarmente purtroppo adesso che viaggio tanto meno ma devo dire che almeno ai play off alla finale ci vado sempre e ho passato gioventù ad andare a tutte le partite a tutte le trasferte e tu che sport pratichi e io corro io corro tantissimo coro tutti i giorni un paio d'ore da sempre c'è appunto la cura del corpo insomma bisogna averla no dico la cura del corpo che tu hai fatto anche la modella tra le altre cose quando ero quando ero quando ero proprio pischella quando eri una pischella una ragazzina che mondo era quello della moda quello dell'attenzione al corpo allora la moda è una cosa fare la modella sono è un'altra cosa la moda è una cosa molto seria nonostante tanta gente ci scherza sopra ci scherzi sopra è un'industria incredibile fatta con grandissima serietà da grandissimi professionisti da grandissimi artisti fare la modella è stata la cosa è stata una specie di challenge come posso dire di volevo vedere sì perché è veramente ma almeno si è considerato meno di un numero sei proprio un po carne da macello e non era assolutamente nelle mie corde nonostante fossi molto giovane dove volevo capire che cosa volevo fare ma l'ho fatto per vedere se ci riuscivo e ho capito subito che proprio non era una cosa per me è andata sulla televisione però i primi passi li hai mossi nel mondo dello spettacolo con la moda perché ti attraeva il mondo dello spettacolo non è che mi attraesse che quando tu hai in casa tuo padre o tua madre hanno la bottega tu continui a lavorare lì forse no non deve essere per forza sempre così però il padre di mio fratello corrado pani è stato un grandissimo attore mia madre è una cantante ha fatto tanta televisione ho sempre respirato quell'aria lì e però l'ho sempre desiderato fare fin da quando ero fin da quando mi ricordo certo non è una cosa che mi è arrivata dopo per il pubblico la mamma è mina ma non c'è bisogno di dirlo vista la somiglianza c'è stato anche il cinema c'è stato il successo di il ciclone leonardo pieraccioni interpretava il ruolo di una farmacista omosessuale assolutamente sì isabella isabella esatto tirato una bella pizza anche nelle a tosca d'acquino a tosca d'acquino le ho mandato un mazzo di fiori sì l'ho dovuta tirare davvero davvero perché era molto tardi dovevamo fare non dovevamo fare quella scena perché ha cominciato a piovere quindi non hanno potuto fare degli esterni quindi si dice esterni dovevano girare delle cose fuori mentre invece ha cominciato a piovere mi hanno trovato a firenze io ovviamente era già firenze stavamo girando lì ed erano tutti molto stanchi molto tardi e allora un certo punto dopo due o tre volte che facevamo la scena ma non veniva bene detto tosca senti guarda io te lo do piano piano però ti accompagno tu cadi indietro una scena di gelosia al ristorante molto divertente dove sono una scena corale dove arrivo io arrabbiatissima perché la mia fidanzata che era la di piraccioni era lì con una delle famose spagnole del ciclone eccetera eccetera e allora diedi a tosca l'accompagnare gentilmente il giorno dopo le mandai un mazzo di fiori cinema anche monicelli anche monicelli anche monicelli anche davide ferrario con tutti giù per terra dove abbiamo vinto anche un premio a locarno con valeria massandrea mario monicelli è stato un mostro sacro del cinema italiano e lavorarci è stato personalità complicata no più che complicata era uno tostissimo era cattivissimo ma di quei cattivi simpatici era un perfezionista oggi credo che non esista più nessun regista che lavori senza il monitor vuol dire che fanno una scena la girano oppure la girano e la guardano mentre la stanno facendo monicelli non ha mai avuto un monitor non ha mai riguardato una scena lui la faceva e non la riguardava neanche per andare per per vedere se andava bene perché se l'occhio vedeva che andava bene andava bene andava molto simpatia antipatie mi hanno detto era uno era uno poco politico li correnti sicuramente gli ho visto fare delle scenate delle urlate agli attori incredibili però per fortuna gli stavo simpatica quindi devo dire che sempre in maniera molto burbera però mia 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 mi ha preso un po in grande simpatia e mi ha mi ha raccontato mi ha insegnato delle cose del cinema italiano eccezionali perché hai fatto così tanti lavori fatto il cinema la televisione con programmi per lo più legati alla musica rock café lo speciale festival bar giudice a x factor il talent è il giudice dei giudici noi facevamo lo speciale di x factor lo speciale di legato alla musica poi la radio il teatro con claudio gerini platinette per dire tanti lavori alla fine uno solo il lavoro che hai fatto nel mondo dello spettacolo in realtà sono tutte lo sai benissimo cose molto diverse in televisione ti rivolge la camera a teatro invece è come se il pubblico non esistesse in cinema la camera non la devi guardare mai quindi in realtà sono veramente tre maniere ovviamente sono tre mestieri diversi ma sono tre maniere di porsi in maniera completamente diversa il teatro è sempre stata una grandissima passione proprio perché fin da quando ero piccolo andava a vedere corrado il padre di massimiliano che è mio fratello che considero uno dei più grandi attori che ci sono stati in italia l'eredità di corrado oggi può essere soltanto di uno come massimo popolizio lavorando corrado lavato con ronconi con cost trailer e più erano lunghi gli spettacoli più mi affascinavano mi ricordo che avevo otto nove dieci anni e stavo a guardare delle delle regie che duravano tre quattro ore il teatro mi ha sempre 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 affascinato tantissimo la televisione mi ha insegnato a gestirmi a gestire il mio corpo e a sapere esattamente come parlare cosa dire quando dirlo eccetera quindi sono stati tanti insegnamenti diversi il cinema è un come anche il teatro è un'introspezione ovviamente dipende dai personaggi che scegli però è veramente un lavoro su se stessi il cinema si fa a roma quindi un po distante forse dalle tue geografie anche degli affetti a un certo punto non l'ho mai amata moltissimo roma no è una città che mi è sempre stata un po ma sempre fatto un po fatica meravigliosa e bellissima ci vado volentieri in vacanza però lavorarci è stato abbastanza faticoso dai lavoriamo con il dado per un altro lancio abbiamo altre caselle per esempio cello due tre quattro specchio siamo sullo specchio noi abbiamo già parlato di una somiglianza imbarzante con con tua madre tu hai dato il volto a tua madre in un video in un videoclip con manuel agnelli adesso è facile un pezzo meraviglioso mia madre che ascoltiamo benedetta e poi ne parliamo volentieri dici che mi vuoi perciò mi avrai dici che mi sai e poi si sa che è tanto facile è tanto facile adesso che non c'è più lei è tanto facile adesso è facile sapere cosa vuoi capire cosa sei ma ti ho aspettato e scopro che sei già passato perché il pezzo è meraviglioso perché io ho una passione per gli after hours immensa secondo me è una delle band più forte che c'è in italia oggi da quando sono usciti quindi ormai da tanti tanti anni e manuel è un grandissimo amico come tutti gli after e li conosco dal 1995 siamo amici e mia madre è sempre stata mia madre conosce tutta la musica e ogni volta che arrivo a casa mi fa sentire lei delle cose che io non conosco io ascolto tutto ed è sempre stata attenta anche a tutte le cose che le facevo ascoltare io allora un giorno nel 95 loro erano in giro a fare un concerto non mi ricordo più dove li ho portati tutti a casa a fare una grigliata in una casa che abbiamo in malcantone e mia madre li aveva già ascoltati e li ha amati moltissimo perché sono molto forti manuel scrive molto bene quindi da allora disse chiese a manuel scrivimi un pezzo e gli anni passavano 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 e poi finalmente manuel un giorno non mi ricordo più che anni quanti anni fa sono questi tipo cinque anni fa sei anni fa manuel chiamò mia madre dice ho il pezzo ho scritto il pezzo ed è questo ed è meraviglioso perché è un pezzo degli after hours tutto per tu cioè proprio un pezzo per chi ama gli after hours lo conosce li conosce però con mina ed è chi ti ha proposto di creare questo gioco di simbiosi fratello perché questo è un territorio anche per me che ti devo intervistare dico glielo posso chiedere com'è essere figlia di un personaggio così grande che però forse può gettare anche qualche ombra però tu in questo video hai disinnescato tutto video in realtà sono stata io ma non a chiedere a mia madre di fare questa cosa in particolar modo perché non mi sarei mai permessa e neanche mi sarebbe venuto in mente Cosimo Alemà che è un altro caro amico che è il ragazzo che ha fatto questo video che è un fantastico regista che c'è in Italia di video gli dissi senti Cosimo fate venire un'idea perché era l'unico che poteva perché è uno geniale allora mi ha detto mi dai una bella gatta da pelare però ci penso ed è venuto fuori con questa cosa allora io chiese mia madre e mi ha detto ma sì perché no che poi non è vero non sono io non faccio mina in questo video in realtà è una storia di due se senti il testo è anche due amanti che non si incontrano mai e devo dire che Cosimo Alemà ha avuto ragione perché secondo me è un gran bel video è molto delicato è molto pulito non è assolutamente non ho nessun problema no no non quello io magari ci assomiglio a mina ma ma sono ben lontana poi non mi ricordo mi hai chiesto un'altra cosa no si è stato complicato in fondo essere figlio di mina allora dice no il fatto delle ombre assolutamente no mia madre quando ero molto piccola avevo appena cominciato a lavorare mi disse non ti preoccupare amore un giorno non diranno più lei è figlia di mina ma lei è la mamma di Benedetta ovviamente questo non è successo non succederà mai perché mina è mina però sono gli altri a ricordarmi chi è mia madre è una mamma ed è la più mamma di tutte nel senso che è una grandissima professionista come tu vieni in televisione a lavorare lei andava a cantare ma poi quando quando torno a casa c'è mia madre cucina mia madre mi fa i maglioni fa i maglioncini ai miei nipotini quindi è sempre stata e un papà ti è mancato Benedetta ma sai mio padre non l'ho mai conosciuto virgilio è scomparso quando ero quando avevo due anni quindi io conosco virgilio attraverso quello che mi raccontano gli altri cronista del messaggero che poi purtroppo in un incidente d'auto è morto quando tu hai due anni un amico che è roberto saviano siccome virgilio crocco mio padre era di caserta e roberto napoletano e fu roberto a dirmi guarda vai a leggere le cose che ha scritto tuo padre perché perché era molto forte e e a napoli con obbi delle persone che mi dissero mi fa molto piacere conoscere la figlia di virgilio crocco che fu mi fece molta tenerezza perché di solito è la figlia di mina invece era figlia di virgilio crocco lasciamo lo specchio che ci ha portato ti ha portato a specchiarti nei tuoi genitori facendo un uno cos'è casella bianca casella è un jolly ma sì è un jolly è a totale improvvisazione quindi è bianco non si sa bene cosa possiamo ti piace come colore comunque tu vesti più sul nero però o no però sul bianco si possono mettere un sacco di cose assolutamente sì e tu il bianco è quello per esempio di una lettera tu scrivi lettere scrivevi lettere a me piace molto scrivere a mano ancora con la stilografica con la stilografica non sei mancina perché i mancini hanno il problema sai che poi macchiano le macchie terribili e cosa scrivi tu scrivi ancora io scrivo molto ma anche perché proprio tutto oltre tutti i lavori che hai menzionato prima io sono stata anche autrice si tutti i programmi televisivi che ho fatto radio che ho fatto e quindi comunque scrivo continuo a scrivere mi piace scrivere quella è una grande differenza essere autori di programmi oppure fare gli attori per altri mettiti qui mettiti la per esempio sul cinema è un po così sì però è una che vuole avere il suo margine di libertà di decisione sulla televisione al cento per cento perché mi piace il cinema diverte nel senso che il cinema tu non fai te stesso nel cinema tu fai un personaggio quindi quello io esigo di essere diretta dal dal regista che è un ruolo fondamentale nel cinema e lo vedi perché quando vedi i registi che ti piacciono grandi famosi che conosciamo la vedi la mano del regista sull'attore ed è bello ed è un 50 50 non deve essere una tela bianca dove il regista può lavorare no devi essere plastilina ed è affascinante televisione no perché televisione se te stesso quindi in televisione esatto ecco più che in televisione a me piace dirigere immagino immagino dai lasciamo la casella bianca perché mi veniva un'associazione un po brutale ma neanche te la evoco la stazione ferroviaria meglio i treni delle auto nella tua vita oddio guarda io ho fatto un incidente soltanto per fortuna nella mia vita ed è stato quasi mortale però cosa è successo una ragazza avevi di avevo 20 22 anni 21 anni stavo tornando a roma ero a casa di amici e stavo tornando roma per finire un film e un camionista in autostrada si addormentato e mi ha mi ha buttato fuori strada ed è stato un incidente molto brutto però sai quando ne puoi parlare sono qua a parlarne quindi è andata bene è stato un mese in ospedale una cosa sì è stata un paio d'anni in ballo però sai quando avevo 22 anni avevo appena cominciato a fare cinema sei giovane va tutto bene era estate ero in vacanza ti ritrovi improvvisamente in una situazione dove ho fatto tantissime operazioni è stato ovviamente mi ha segnato moltissimo però mi ha cioè lì è stato di nuovo nella mia vita sono sono state tante tanti come che fai una riga con una penna ricomincia tutto da capo ed è stato utile avrei preferito di no però l'abbiamo fatta diventare una cosa utile si è riuscito riuscita assolutamente sì invece la stazione il treno ma i treni mi piacciono devo dire li prendevo molto di più prima adesso ammetto di andare o a piedi o in macchina da tutte le parti io passo molto più tempo sugli aerei perché faccio prima con l'africa è così a casa adesso tu abiti a loreto sì abiti a loreto noi siamo giunti alla conclusione abbiamo 30 secondi per chiudere a casa come ci vai a piedi no sei in auto da qui da comano comano loreto come te la giochi adesso vado vado in macchina però siccome a me piace molto andare a piedi specialmente qua da noi che bellissimo perfetto benedetta mazzini grazie di cuore per essere stata con noi siamo andati da loreto fino in namibia è stato un piacere grazie averti ospite grazie grazie anche a voi noi ci rivediamo la settimana prossima lo sapete benissimo dopo il quotidiano e prima del tg non come diceva quello la vengo dopo il tg noi veniamo prima buona serata